Al momento è ok, è una buona combina con Valentino, è anche molto veloce, ma al momento tutto è ok, è buona gioia, è cambiata molto in compagno con i rally che faccio normalmente, mi piaceremo, è buono. Otto? Otto parole. Molto divertente, è uno degli sport motoristici più facile. Alla grande, poi adesso Piero ha fatto una gara memorabile, davvero, sono molto contento, mi fa sempre divertire, anche se abbiamo questa macchina che non va come le altre, le Ford, compagnia bella, però grande, grande pilota. Cos'è per te il rally di Monza? Ma è sempre un appuntamento ormai fisso perché è troppo divertente, poi ho visto che la gente quest'anno, anche grazie al bel tempo, sta rispondendo alla grande. Molto bello. Un saluto a Greggio Iacchietti. Ah, fai come Militello? Ah, benissimo. Ciao Enzo, ciao Enzino. No, vedi che ho sbagliato anch'io.